Cari amici e amiche di Terressore News, buongiorno, benvenuti in questo spazio dedicato alle elezioni comunali a Canosa di Puglia. Attesissimo era il nome del candidato sindaco del centro-destra ed è qui accanto a me Vito, Vito Malcangio. Buongiorno. Grazie. Ecco, Vito, siamo pronti? Prontissimi. Colgo l'occasione, avendo te al lato, per augurarti... Tu sei papà? Sì, sì, un figlio. E anche un figlio, ecco. E allora facciamo gli auguri a tutti i papà che sono in collegamento con noi. Auguri a papà. E allora, caro Vito, posso... Allora, Vito è un farmacista. Lo conoscono tanti a Canosa. Ecco, posso chiamarti Vito, dottore? Assolutamente, no, Vito, 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 Vito. Vito per tutti, ecco, e questo è importante. Allora, Vito, ma Vito chi è? Sì. Ecco, vi ho detto farmacista, conosciuto con questa città, hai una storia, ecco, appunto nel settore della farmacia, poi ci parlerai di questo? Tre, la mia farmacia, io sono la terza generazione, la mia, quindi ho un bel passato importante. Questo passato importante però mi ha sempre solo dato soddisfazione, mi ha reso quello che sono e mi da sempre un po' di... Mi stimola, mi carica sempre, ogni giorno, quotidianamente, perché vivo con tanti ricordi nella mia azienda e questi ricordi mi caricano ogni giorno, perché cerco sempre di dimostrare di aver ricevuto, certo, la farmacia, ma di essere degno di portare avanti l'azienda di famiglia. È molto importante, ecco, poi, insomma, con questo passato ci sono tanti valori che sono in te, suppongo. Assolutamente sì, la famiglia prima di tutto, il lavoro, gli amici, cose molto semplici però penso vere, penso che poi la vita alla fine è fatta di cose molto semplici, però importanti. Ecco, ma cosa significa poi essere farmacista? Il farmacista è un punto di riferimento, è un punto di riferimento per varie tipologie della popolazione, del popolo, del cittadino. Ci si confida sempre col farmacista, si parla di tutto e di più, perché è un rapporto quotidiano, quotidianamente noi farmacisti vediamo 200-300 persone al giorno, chiacchieriamo con tutti. Insomma, di famiglia c'è anche un altro aspetto importante, ecco, del tuo papà. Chi era il tuo papà? Il mio papà è stato il sindaco di Canosa, il primo a essere eletto direttamente dal popolo. Fu una bellissima esperienza, bella, bella, bella. Lui fu veramente orgoglioso, io me lo ricordo, l'orgoglio di mio padre quando venne eletto e capì che la popolazione voleva lui a tutti i costi. Fu una bellissima esperienza, molto molto bella, molto molto bella. Anche a noi figli è rimasta quella impronta, veramente bella, un bellissimo periodo che Canosa ha donato alla mia famiglia. Quindi davvero sei cresciuto tra la farmacia e l'aspetto poi politico di questa città. A casa si è sempre fatta politica, sempre. Perché noi riteniamo che la politica sia la quotidianità. È stupido parlare, no, la politica è sporca, questi modi di dire che non hanno senso. La politica si fa quotidianamente. Io farmacista la faccio quotidianamente. Perché se devo spiegare il ticket a un paziente, devo dire il perché, il motivo del quale c'è. Se purtroppo un malato deve pagare il deflussore, devo spiegare il motivo per il quale. Quindi questa è politica. Se un diversamente abile vuole raggiungere la mia farmacia o qualsiasi altra attività ed è bloccata da un incivile che ha messo la macchina davanti all'ingresso e io devo chiamare i vigili e questi poveretti mi dicono guarda Vito, non posso mandarti nessuno perché non abbiamo personale. Questa è politica. È politica quotidiana. Io lo vivo, il mio paese lo vivo quotidianamente. È vero. Il paese è di tutti noi. Ecco, come mai la scelta di candidarti a sindaco? Allora, la richiesta è stata fatta, mi è stata fatta da una coalizione politica di Canosa. Io mi sono detto, basta, girare le spalle dall'altro lato, basta. Anche perché un mese su per giù, un mese fa, il Papa e il Santo Padre dissero in una trasmissione non dobbiamo girare le spalle dall'altro lato. E quindi se il paese vuole, io con orgoglio farò il sindaco della mia amata città. Hai emozionato a me, ecco, citando il Papa. È una grande figura e anche una grande responsabilità. Sì, sì. Vero? Certo, certo. A me piace molto questo Papa. È semplice, diretto, preciso nelle risposte. E avendo il tempo che viaggia velocissimamente, avere la mattina, sentire il messaggio puntuale, preciso del Santo Padre che ti carica, non è da prendere in considerazione, è importante. È importante. Ecco, e poi arriviamo, io la domanda devo fartela, perché sicuramente la faranno in tanti, da ora innanzi. Ecco, ma come farai a conciliare il lavoro di farmacista che è impegnativo, no? E quindi con, altrettanto impegnativo, il ruolo di sindaco, perché il sindaco deve stare tra la gente e quindi abbiamo bisogno, insomma, che questa porta sia aperta? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ho già assunto un altro farmacista che collaborerà nella mia farmacia, quindi ho tre farmacisti, perché se devo fare il sindaco, voglio e voglio farlo H24. Per strada sarò il sindaco di tutti. Allora basta avere questa porta chiusa, la porta del sindaco è aperta, non deve essere chiusa. Basta aspettare un mese per una carta d'identità, basta questo paese sporco. Dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo assolutamente cambiare rotta. Allora, siamo troppo in fondo, siamo arrivati proprio, io penso, al limite. Tutti insieme, tutti insieme dobbiamo trovare una giusta soluzione per questi enormi, tanti, tanti problemi del nostro paese. Ecco, e quindi la riflessione quando si guarda la propria città, ecco, dalle tue parole la leggo, no? Perché la vivi, quindi guardando, ecco, il nostro centro storico, ecco, il nostro centro cittadino, le periferie. Vediamo una città che ha bisogno, no? Anche, insomma, sotto il profilo proprio del disagio sociale che questo, insomma, purtroppo esiste. Quindi c'è veramente un grande lavoro da fare, Vito. Io la sogno pulita, luminosa e sicura, è bella, è bella. Pulita perché è sporca, non si può uscire di casa e trovare questa spazzatura ovunque, nella periferia, è piena, non va bene. Non va bene, bisogna immediatamente parlare con chi compete, con chi fa il servizio di raccolta e vedere un po' di trovare una soluzione. Non può andare avanti così, non è un bel beglietto da visita. I turisti arrivano a Conosa e cosa trovano per primo? I rifiuti. Non è così, se si ambisce a un posto di rilievo nel panorama della cultura, dell'archeologia italiana, non possiamo affrontare così la situazione. Poi, perché è tutto conseguenziale, se è pulita le attività aprono all'esterno, se la piazza è pulita il bar apre all'esterno, con piacere, in veste, e quindi posti di lavoro. E quindi i giovani invece di uscire da Conosa e quindi farci stare con il patema d'animo, la notte torna, non torna, vivrebbero il paese. E quindi le attività avrebbero il loro tornaconto. È tutto conseguenziale. Se tutto ciò però con la sicurezza. Quindi, altro punto importantissimo, il comandante dei vigili urbani. Non abbiamo un comandante dei vigili urbani, è assurdo. E gli stessi vigili urbani, ora, se non ho, mi sembrerebbe che dovrebbero essere 19. Invece dovremmo averne molti di più. Quindi immediatamente potenziare il personale della poesia locale. Un altro aspetto importante sono i giovani e sono le associazioni. Cosa ha immagini per loro qui a Conosa? Dobbiamo creare le opportunità. I ragazzi, i giovani seguono le opportunità. Noi dobbiamo essere bravi a crearle, in modo tale che loro rimangano qui e non vadano fuori. Ecco, perché purtroppo... Scappino da Conosa. Effettivamente, purtroppo, insomma, molto spesso gli adolescenti dopo il diploma vanno via per l'università e poi magari non ritornano a Conosa. Non hanno sbocchi, non hanno nulla. Abbiamo pochissime aziende. Ovviamente, delle aziende che vogliono ampliarsi, ho seguito, ho chiacchierato con alcune aziende agricole di Canosa, che vorrebbero ampliarsi, non riescono per inghippi burocratici. Per questo non deve succedere, questo assolutamente no. Noi faremo di tutto per eliminare questa burocrazia che blocca. È impossibile che fatto 20 chilometri un'attività possa aprire e da noi no. È impossibile, c'è qualcosa che non va, c'è un meccanismo semplicissimo che non va. E questo noi lo elimineremo, ne sono sicuro, ne sono sicuro assolutamente sicuro. Ecco, allora Vito, ovviamente questa è la prima intervista, ovviamente poi faremo l'approfondimento come faccio sempre, insomma, ecco chi ci segue. E quindi lo faremo, insomma, in maniera tematica. Per quanto invece riguarda tanti altri argomenti, io vorrei averti nuovamente qui ospite per trattare ovviamente diverse tematiche che poi coinvolgono con il nostro contesto sociale. Però io una domanda devo fartela. Le tre famose A che sono ambiente, archeologia e agricoltura. Ecco, cosa puoi dirmi di queste? Di queste famose tre A? Archeologia, siamo contenti perché con l'apertura del museo avremo già un passaggio positivo. Poi ci sono tante idee, per esempio anche il museo diffuso è anche una bellissima, potrebbe essere anche una bellissima cosa per il paese. L'agricoltura è il nostro fiore d'occhiello e quindi da parte nostra ci sarà tutto l'impegno perché i nostri prodotti, e ne abbiamo, siano diffusi. Aiuteremo ancora di più i produttori a esportare i nostri prodotti. I modi ci sono, il mondo è aperto, ce la faremo. Ecco, il prodotto che a Vito piace? Me? Sì, ovviamente. Il vino. Io adoro il vino. E quindi l'uva? Eh sì. Eh beh, ci sta. Io adoro il vino, senza il vino non posso stare. E qui saranno tutti contenti, insomma, coloro che producono vino? Eh lo sanno, lo sanno tutti perché li sponsorizzo tutti quando passano dalla farmacia, sono anche critico nei loro riguardi quando mi portano, quando acquisto le loro bottiglie, sono preciso nell'indicare. Vino rosso, bianco? Dipende dalla stagione. Ah, è. Inverno rosso. Un intenditore allora. L'estate rosato, bianco no. Ah, vedi, bene. Bene a sapersi. Quindi potrai brindare nel caso... Cosa vi dovete regalare, eh? Ah, lo potete regalare? Regalare. Però nel caso di Vittoria, ecco, ci offrirai un bicchiere di vino rosso. Quello a casa mia non manca mai. Perfetto. Ecco, a me invece piace la percoca. Bene. Ma che col vino ci sta bene. Ottima, ottima, ottima. Mia madre la fa in una maniera squisita, tremenda. Ed ora, ecco, al termine di questa intervista. E ti ringrazio. A te. Ecco, cosa vogliamo dire alla città, agli amici che ora ti stanno ascoltando? Allora, voglio dire una cosa. Datemi fiducia. Non lasciateci soli. Noi abbiamo bisogno di tutti, chiaramente del contributo di tutti. Abbiamo una voglia pazza di metterci in gioco, di far vedere quanto valiamo. E sono sicuro, sono sicuro che non deluderò né i miei concittadini, ma prima di tutto la memoria di mio padre. Grazie. Grazie Vito. Grazie davvero anche per questo ricordo, in questa giornata appunto che si celebra, ecco, il papà. E quindi, ecco, le tue parole cadono a fagiolo, come si suol dire. Grazie, grazie davvero per questa bella intervista e a voi cari amici, buona giornata.